E' già all'opera, quando l'alba irrompe a Londra sventolando bandiere anti-Brexit dietro le troupe televisive posizionate al di fuori di Westminster. Negli ultimi 15 mesi il gallese Steve Bray ha fatto sua la missione di stare fuori dal Parlamento ogni qual volta i suoi membri sono riuniti, assicurandosi che il suo messaggio giunga forte e chiaro. I cartelli di protesta dell'uomo soprannominato a Mr. Stop Brexit contro l'abbandono dell'Unione Europea da parte del Regno Unito rappresentano uno sfondo regolare per le immagini riprese fuori dal Parlamento, al pari delle sue grida all'indirizzo dei deputati. Voglio che le persone pensino e voglio che siano lì fuori a vedere. Non tutti sono online. Voglio che le persone nelle loro città agiscono contro il pasticcio in cui ci troviamo. Non vogliamo la Brexit, possiamo fermarla. Bray che dice di essere posizionato a Westminster dalle 10 alle 18 ha messo in nafta lì nel suo lavoro di numismatico e vive per sua stessa ammissione nel modo più economico possibile con simpatizzanti che gli offrono cibo, bevande calde e alloggi gratuiti.